Mamma mia, buon pomeriggio! Eh, ma tu è una vita che volevo rigiocarlo, Fleshing Light. Allora, cosa vogliamo fare prima? Poliziotti, EMS, quindi paramedici o pompieri? Mi affido a te. Ma andiamo di poliziotto, intanto. Poi vi siete cambiati i nomi, adesso mi sento a disagio che siete tutti i codici fiscali e io c'ho il mio nome. Ma la macchina è perché siamo troppi, mi sa. È un po' complicato, però, vero male. Vai. Ma sei scemo! Lino, smeghi la sirena! Ma poi passa da zero a un milione. Facciamo, patrulliamo e poi bisogna premere Y per accettare le missioni. Rissa in atto! Accetto, Lino. Guidami, dove devo andare? Sinistra. Però guidami meglio, perché mi sono fissata bello. Spacca lui! Vai dritto! Sto andando bene, Karimba! No, hai sbagliato strada. Gira a sinistra, bravo. E eccomi qua, buongiorno. Ragazzi, hai chiuso la porta, non posso. E spaccala. C'è il bagagliaio dietro, e vedi un attimo? Vedo una signora dentro casa. Ha un Doram! Ve lo prendo, arrivo! Vai! Si arrivo le due mani. L'ho sfondato! Signora! Signora, aspetta, interagisci. Ci posso interagire? Chiedi dopo me. No, parla un attimo. Si chiama Melissa Larson. C'è lo sparatorio qui dietro! Vado! Ma la banda di pazzi! Dove, dove? Il fondo di contegno! Allora, richiedi. Rissa in atto, qui. Eh, ma come si fa la rissa in atto, scusa? Chiedi documenti. Di un cazzotto. Isabel Mongò. Iniziala! Perquisisci. Signora, dai. Adesso sono po'. Io perquisisco la signora. Ha trovato un'arma! Ah! Stanno facendo un'altra cosa! Sta scappando! Sta scappando! Signora! Dove dove è? Signora la ferro! Verso dove? Aspetta, è taser! Cazzo, prendi il taser! Ma che è successo? Aspetta, me lo vedo io! Ma che è successo? Signora, la prendo in manette. L'ho uccisa! L'ho uccisa! Ok. Ma chi l'ha uccisa? Non era lei che scappava! Non era lei! Ma che hai fatto? È lissima! Aveva un'arma addosso. Sì, sì, è vero che ho fatto bene. Lasciatemi un'auto, però. Ecco qua. Il taccheggio! Posso passare di qua? Oddio! Due deficienti! Ma non siamo... Ma non dobbiamo andare in tribunale, no, Lino. Dobbiamo andare in stazione. Mannaggia, la misera! Prendi la macchina e ti seguo la prossima volta. Fermati, piano, piano, fermati. Ok. Ah, ecco qua. Registra il sospetto. Ecco qui. Isabel Mongomere, firmo. Eh, perché loro sono all'ingresso? Fatto! Salve! Missione completata! Desiderano i signori. Desidero un bacco di badadine. Per cortesia. Va bene. Ma possiamo anche cambiare i veicoli. Bellissimo! Eh sì? Il mio veicolo è questo qui. Forse potete entrare dietro? Ci puoi entrare dietro, bellissimo. C'è anche le sirene, ma che bello. Chiudete le porte però, scusami. Cosa vedo? Cosa vedo? Se lo vedo delle cose un po'. Conducente aggressivo, vado. Blocca il veicolo, mi raccomando, e dobbiamo speronare... Dobbiamo speronare il veicolo. Secondo me è il 12 con il coso verde e il... Ci sparano! Ci sparano! Ma che dici? Lì uno ci ha sparato, giuro su Dio. Ma non è vero, non c'è nessuno proprio. Ma come sparavano? Non c'è niente. Ragazzi c'è uno lì che spara. Ma lì dove? Lì sulle scale del tribunale. Guarda questo signore, spara! Non è vero. Ma sì! Ma è un signore in canotto. Ah sì, sta sparando, è vero, sta sparando! Bastardo! Ma è la signora di prima! Però la missione mia non c'è più. Ma perché state perquisendo? Che state facendo? E questo mi ha sparato! Guarda adesso un secondo, scusami di tanto. Ma non ti ha sparato, non era a terra, lui non è... Ma che è successo? Ma liberalo questo poveraccio! Ma che poveraccio? Quello che mi ha sparato! Ma la mia missione dov'è? Ma come si molla questo signore? Ok, questa volta seguiamo le tue queste. Sì, seguiamo, sono le mie. Così tutti i simboli che vedo sono sicuro che sono miei. Ecco... Oh madonna mia! Agente necessita assistenza. Ci siete? Lo prendo, eh? Ci siamo. Ti vedo io. Ok, attenzione! Ma chi è da signoro? Mani in alto! Aspetta lui! Ma magari... No, sparano! Aiuto! Ma ragazzi, con il fuoco di copertina! Ma è ammazzata! E certo, sparava! Cosa ha fatto? Richiedo il trasporto della signora. Aspettiamo l'ambulanza una... Oh madonna! Ecco qua! È arrivata... E adesso... Andiamo in stazione e cambiamo ruolo, dai! Togliamo sto la polizia de merda! Medici o pompieri? Io ho fatto il medico. Medico o medico? Oh madonna santa! No ragazzi, io non so cosa sta succedendo. Bravi! A parte Karim che è maleducato tutti con la mascherina. Ah, dovevo mettere la mascherina? E beh, siamo dottori, Karim, vedi un po' tu. Dove si esce da questo posto? Guardate, fuori. Guarda la targa, perché c'è il nome. Aspetta, vedo se è la mia e quella sotto. Fammi salire, Francesco. Ecco qua. Ce l'ho fatta. Vai, bravo, bravo. E sono entrato? Ce l'ho fatta. Vai, Karim. Ce l'ho fatta. Prendo l'incidente tra veicoli. Seguite al 15. Ma è caduto un lettino! È caduto un lettino! Ma è la nostra? Sì, è il nostro. Aspetta l'ora accanto, aspetta. Caricami. Aspetta. Non è fin solo da me. Oh, Dio! Ci vedete morte! Donne, è arrivato l'arrotino! Esamina la persona per controllare se può essere trasportata allo spedale. Vengo! Indiragisci usando la borsa medica o altri oggetti dal bagagliaio. Non ho la borsa medica! Ah, io la torcia. Ce l'avrò io. Borsa medica. E ma a me serve una mano col divaricatore. E che cos'è? Dov'è? Devecidillatore. Gli metto gli elettrodi. Vai, vai, vai. Ecco qua. Cosa fa quello con la zucca di Halloween? Sto mettendo i segnali satrali, così ci vedono. E' vivo? L'ho salvato la vita, sì. Di controllare di nuovo ECG, dice. Ho rianimato un cadavere? Come funziona? Eh no, guarda che è morto, eh. È morto. Eh vabbè, portiamolo al lobitorio, ma lo vedo io. Ma non si muovono le gambe. Ma c'è sta roba in mezzo? Non passo. Allora. Mi sono rotticolio e vado via. Non puoi seguire questa azione mentre gli elettrodi sono connessi. Chi fanno gli elettrodi? Ma l'avete ucciso voi? L'avete ucciso? L'avete fulminato questo qui. Gatto, togli gli elettrodi. Proprio prende fuoco. Come si fa un filter che prendeva fuoco. Buon neve, Natale, svegliati. Allora adesso Lino, prendi la tua borsa medica. Mannaggia Luazzo, managgia. Fai move to stretch. Che succede? Ecco qua. Ecco qua. Allora, io l'altra signorina è qui, eh. Ragazzi, c'ho il morto, aspettate, non so dove andare. Aprivi le porte, Francesco, per favore. Prego. Ok, lo faccio. Facciamo un po' di RP, grazie. Dove stai portando? E' qui dentro, bisogna portarlo qua. E' di pattini, bello comodo. Consegnato, l'ho consegnato. Pur io. Qua posso. E la missione è finita. Qua possiamo salire tutti, eh. Ho preso l'ambulanzona, quella per i figli. Ma è uguale solo che Optimus Prime. Non è cambiato ruolo. Vai, sì, vai. Ti prendo. Ma sei scemo. Ma dai, ma sei scemo, l'hai ammazzato. E niente, persona priva di sensi. Ho accettato la missione, vai, vai. Ecco qui. Ecco qua. Signore che scende, dite scale. Aspetta, devo prendere la borsa. Vieni un attimo. E qua, e qua. Mi sono messo comodo a posto, hai visto? Grazie. Così mi piace. Quando ruoliamo, mi piace. Ma la porta è chiusa. Eh, ma scusa. Come entro? Deficiente, fammi entrare. Sennò come ti aiuto? E allora qualcuno di voi deve andare in stazione e cambiarsi polizia. Allora, vado io. Vai, gatto. Sei tutti noi. Perfetto, grazie. Lasci, lasci lavorare. Dov'è il signore? Che sta male? Dov'è? Eccolo qua. Vai tu, vai tu. È morto. E mi sembra la borsa. Lasciami la borsa. Bene. C'è una borsa. Bebe. Non lo rinviamo di borsa in un altro modo. Metti i segnalini per il traffico, mi dirà. Allora, abiti. Esamino il paziente. Vediamo un attimo. Lei stia lì, eh? Battito trovato. Grazie a Dio è vivo. Metto i coni, ragazzi. Come li volete? Cioccolato e basta. Va bene. È incosciente ma respira. Quindi gli faccio un RCP. Niente, portate un defibrillatore. Arrivo. Benissimo. Carico, ragazzi. Vai. Ma è vivo? Perché l'ho ucciso? Ma non dovevi defibrillarlo? Deficiente. Ti serviva le CG per fargli la respirazione. E va bene. Richiedi il trasporto o prendi la barella? Vai. Vado a prendere la barella. La barella è qui. Lino, la barella è tua. Che vuoi? Da quella cialassa prendi la tua barella. Non ce l'ho. È la tua ambulanza, Deficiente. Arrivo. Ma dove la tieni l'arma tu? Scusa. Hai visto? È la mia cravatta. È il fermacravatta. Dio mio. È un fermacravatta americano. Oddio. Aspetta, lo faccio nel romanzo. È l'armata. È l'armata la barella. Ragazzi, toglierevi la coglia. Oddio. Ma no. Vabbè, non funziona. No, vai dalla signora e mandalo sulla stretcher. Toglierei gli elettrodi. Toglierei. Eccolo. È arrivato. A fangul. Ok, ragazzi. Siamo pronti a partire. Ok, chiudi se non rimane fuori. Facciamo, io direi, un'altra da ambulanza e poi i pompieri. Vinta. Vinta. Non abbiamo ancora missioni. Ci muoviamo, ci muoviamo. Aspetta, voglio diventare i gelatini. Possibile frattura ossea. Accetto. Vai. Guarda con le gambe dritte. No, no, ancora. Ragazzi, abbiamo un problema. No, Lino, è l'unica ambulanza che abbiamo. Valla a spingere, sto deficiente. Ragazzi, mi serve una bocca prorompente. Ecco qua. Vai, a tutta velocità, capisciolo. Colpisci mi forte. Ma no, il palo. Ce l'ho fatta. Ce l'ha fatta. Ok, è possibile investimento, ma in mezzo all'incrocio. Tutto regolare, ragazzi. Prendi la borsa. Signora. Allora, c'ha la frattura al braccio. Ecco qua. Adesso, mettila in barella. Di chi è l'ambulanza? Facciamo tutti i pompieri. E usiamo un camion. Ma ci stiamo? Eh, sì. Credo di tutti i potassati. Ma allora, vedi. Hai allancato il cervello. E sei bravo tu, Francesco, allora, a parlare. Vedi che si può, guarda che posso rimanere, Francesco, guardami. Accetto, è difficile fiamme. 61, vai. Qualcuno l'ha preso. 61. Siediamoci dietro, eh. Ma che, io vedo due persone una sopra l'altra. Ma dove cazzo è andato sto deficiente? Ma era aperto un attimo fa. Si costruiscono le murette in un attimo qui. Che che ne so io? Gatto, era lì vicino alle ms, 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 ms. Eh, non è che cosa dici. E' avanti. Summer card, sms. No, noi lo vediamo avanti, però. Ma il 63? Si, ho sbagliato io, vai, vai. Sto rincoglionito di merda. Ho sbagliato. Ma è sempre esagerato. Ma dov'è? Io nella mappa non lo vedo il 64. No, gatto. Ah, no, gatto. Allora, usate la scala. Allora, usa la scala. Bravo. Qualcuno usi la scala? Gira la, gira la, gira la scala, gira la scala. E come cazzo la giro? Sì, esatto. Alza, le trocca la struttura verde. Più di questa non si alza, ragazzi. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Sto facendo la retro? Sì, va bene, ma questa è ingegneria. Aiuto. Dov'è che devo andare a 65? Vado. Aspetta, sono caduto. Eccoci qua. Vai. Ma posso capire come ci siamo trovati in Papuasi? Come è successo? Veramente siamo in Congo? Dove ci hai portato? Era lì, ci abbiamo messo a mettere tre ore per fare due metri E se non ce la fai, ce la fai, non è colpa mia, eh Oh mamma mia, che succede? No, aiuto Lo sapevo che tagliava, c'è il fiume Non ci vado ragazzi, ovviamente, non vado nell'acqua Gatto, torna indietro Che palle, dovevamo fare il giro marco Guarda, adesso come sale Chiamati i bombieri Esatto, chiamati i bombieri Non dai una botta di scala, per favore Che così usavano l'albero Mannaggia, guarda, fammi scendere Erano 120 metri Sono diventati in tre giorni C'è un tasto per sbagare i veicoli, è vero? Esci, mettiti in strada e rispauna il veicolo Almeno una missione, riusciamo a farla con i bombieri Oh madonna santissimo Ma basta sta scala che sbilancia tutto Ma basta che non doccate niente Ma non ce l'ho la patente di veicoli Il palo Porca di quella puttana Ma rispauna il veicolo No, perché si castra ancora di più Guarda te Che disastro Però potevano farlo un collegamento migliore Tra i lì, i suburbs e la città Che non fosse No I fuochi si stanno spegnendo da soli Effettivamente Da 21 a 9 Ragazzi, non vi preoccupate Che ha finito Ok, vai, vai, vai Ok, vai, vai Ok, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Per arrivare poi si è estinto da solo C'era un altro, sì Ma è da tutt'altra parte Ma quanto fuoco Madonna Ecco Strider Che fumo nero Prendiamo i bomboni Allora, come si fa qui? Autorespiratore Prendiamo una ventola e prendo Può essere utile Ma che sta fai Però, se ti sposti Eh, scusami Ecco qua Ma spegni ste cose, Lino Fatta Oh, ce l'abbiamo fatta Sto tornando indietro E lo sta continuando a rilasciare Anche all'indietro Sì, no, ma credo sia all'infinito Io direi che ci possiamo fermare qui Ma mi spiagge È stata la cosa più bella del mondo Questa live qui Confermo Grazie mille per essere passati Mi raccomando Ciao, belli Ciao Ciao Ciao